Buongiorno, Barbaro Sensei. Della caccia alle streghe, che ha fatto in tempo a cominciare nel Medioevo, ma poi è andata alla grande nel Rinascimento. L'epoca dei roghi degli eretici. Giordano Bruno viene bruciato a Roma in campo di fiori nell'anno 1600. Il Medioevo è finito da un pezzo. Il Rinascimento è l'epoca in cui dalla Spagna e da gran parte d'Italia vengono cacciati come lebrosi gli ebrei, oppure vengono costretti a star chiusi nei ghetti. D'altra parte è l'epoca in cui la Chiesa vive con tale disinvoltura che il figlio di Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze, è cardinale a 14 anni, in attesa di diventare Papa qualche anno dopo. Il Rinascimento, per esempio, è l'epoca dell'astrologia. Ci credono tutti, ci spendono cifre folli. E Galileo non inventa soltanto il microscopio, fa anche gli oroscopi. Ecco, se ci ricordiamo queste cose, siamo equipaggiati nel modo giusto per goderci questo documentario sulla grandezza dell'uomo del Rinascimento. Buona visione! Un binomio inscindibile. Un edificio di proporzioni colossali, sormontato dalle enormi statue degli Apostoli e del Cristo vincitore, che dominano la facciata. È il monumento che segna il trionfo del Rinascimento, mentre il colonnato rimanda alla tradizione dei templi classici. È considerata la madre di tutte le chiese del mondo. Un progetto che sarebbe stato irrealizzabile solo poche generazioni prima del Rinascimento. Infatti, nessuno avrebbe osato anche solo concepire quest'opera. La matematica, la fisica e l'ingegneria strutturale non erano ancora sufficientemente sviluppate e mancavano strumenti e conoscenze. Poi, alla metà del XVI secolo, le arti e le scienze compiono un balzo in avanti decisivo. È l'inizio del Rinascimento, un'epoca in cui diventa realtà ciò che per millenni sarebbe stato impossibile. Nell'arco di quattro generazioni saranno realizzate opere come la Basilica di San Pietro. Le arti e le scienze conoscono uno sviluppo senza precedenti. Tra i protagonisti ci sono personaggi come Michelangelo Buonarroti e i tanti individui geniali che risolvono problemi di fisica e matematica trasformando i sogni in realtà. Le loro opere dureranno nei secoli. Ma qual è il loro segreto? Inizia il viaggio in un'epoca in cui il mondo viene ripensato su basi del tutto nuove. È il Rinascimento. Roma, 1547. Un uomo sembra riassumere tutte le potenzialità del Rinascimento. È Michelangelo Buonarroti. Nell'immenso della Basilica di San Pietro, forse l'opera più vasta nell'Europa del Rinascimento, è il direttore dei lavori, l'architetto e l'artista. All'epoca ha già 72 anni, ma è ancora dominato dall'ambizione. Michelangelo è una figura colossale del Rinascimento. È pittore, scultore, architetto, scienziato, genio e sregolatezza. Un uomo dai mille talenti. Una delle sue opere assurgerà a icona di un'intera epoca e lui stesso diventerà l'incarnazione dell'uomo che reinventa il futuro, il paradigma del Rinascimento. Il David di Michelangelo è forse la scultura più nota nella storia dell'arte. Uomini come il Buonarroti diventano i dominatori di un'epoca in cui arte e cultura, scienza e tecnologia si sviluppano a velocità vertiginosa. Firenze, 1501. Il giovane Michelangelo sta per sorprendere i suoi contemporanei con un'opera che ha del miracoloso. È incaricato di scolpire una statua del David in un blocco di marmo di 12 tonnellate. Già due scultori hanno tentato l'impresa e hanno fallito. È l'inizio di un'ossessione che lo divorerà a lungo. Per tre anni, lavora incessantemente a questa statua di 5 metri. La prima scultura monumentale dell'Alto Rinascimento. Il David è un manifesto ideologico. L'uomo può raggiungere gli dèi, un concetto che segnerà un'epoca. Durante il Rinascimento cambia il modo stesso di concepire l'uomo. Ancora verso la fine del XII secolo, il futuro papa Innocenzo III scriveva che l'uomo è putredine, corrotto dal principio. Secondo l'ottica medievale, la natura peccaminosa umana si rifletteva anche a livello esteriore. Con il Rinascimento, questa visione pessimistica appare ormai datata e si inizia a porre l'accento su una rappresentazione quasi divina dell'uomo, creato a immagine di Dio, dotato di intelletto, forza e talento. E, in quanto creatura sovrana, può elevarsi fin quasi a imitare il suo creatore. Circa dieci anni dopo aver completato il suo David, Michelangelo finisce il Mosè per la tomba di papa Giulio II. È un'altra opera che sembra sublimare la natura umana, in cui il profeta è raffigurato con muscoli guizzanti ed espressione accigliata. Nell'antichità classica era il volto che si dava agli dèi. Michelangelo impara dai maestri dell'arte greco-romana, ma non li imita. Infatti, il Rinascimento è molto più di un ritorno alla classicità. I suoi maestri creeranno qualcosa di mai visto prima, prendendo le tecniche e gli stili fioriti in Grecia e a Roma e spingendosi ben oltre. Nessuna delle grandi opere d'arte dell'epoca mirava solo a copiare un modello classico. È fondamentale capire che il Rinascimento non si limitava a riscoprire il gusto critico dell'antica Grecia e non si poneva semplicemente a confronto con la scienza e la sapienza antiche. Tutto viene portato a un livello superiore. Ha creato un nuovo mondo, spodestando i giganti e superando i maestri. Un esempio di arte rinascimentale, la primavera del Botticelli, un capolavoro della cultura occidentale. La scuola di Atene di Raffaello, che glorifica il pensiero classico. E ovviamente la gioconda di Leonardo da Vinci, un'altra icona dell'epoca. Alcune tecniche vengono riscoperte dopo un millennio di oblio, come la rappresentazione tridimensionale del mondo sulle superfici piane. Per l'architettura è un gigantesco salto in avanti. Il Rinascimento riscopre infatti la prospettiva. Esaltando la simmetria, l'architettura si ispira ai modelli classici e sviluppa nuovi temi. Durante il Medioevo, l'arte di costruire grandi volte a cupola era stata in parte dimenticata e viene riscoperta con il Rinascimento, le cui innovazioni non si limitano all'arte. Con l'invenzione della scrittura contabile in partita doppia, mercanti e banchieri possono monitorare le loro e le altrui finanze. Presto, le ricchezze dei ceti emergenti andranno a sostenere il talento degli artisti. Il mecenatismo è un vasto programma di investimenti nelle scienze e nelle arti che favorirà una sorprendente concentrazione di invenzioni in un tempo molto breve. Vengono costruiti nuovi macchinari e si cominciano a esplorare i segreti della macchina umana. Nasce la moderna anatomia. Per la prima volta il calcolo del tempo diventa centrale nella quotidianità e vengono inventati i primi orologi da tasca. Mentre si scruta il cielo e si studiano le orbite dei pianeti, guidati dai corpi celesti, naviganti e avventurieri scoprono nuove rotte e il mondo diventa molto più grande. In precedenza era impossibile che le stesse idee fossero condivise e discusse da tante persone in così breve tempo, favorendo l'emergere di nuove scoperte in rapida successione. L'invenzione della stampa favorisce questo circolo virtuoso che coinvolge sempre più persone. Coinvolge le élite intellettuali, gli accademici e anche il clero. Le idee viaggiano e in questo modo vengono realizzate scoperte che cambiano il mondo. Ma cosa dà il via a questo periodo eccezionale della nostra storia? Quali elementi innescano questa corsa vertiginosa? Come è possibile che uomini come Michelangelo abbiano dimestichezza con tecniche e conoscenze rimaste sepolte per secoli? Torniamo indietro nel tempo. Roma, primo secolo dopo Cristo. Per gli architetti dell'epoca, la Basilica di San Pietro non sarebbe un'opera impossibile. Le prove si trovano nel foro, il centro politico e amministrativo di un impero che domina tutto l'Occidente e che esporta i suoi valori e il suo stile di vita nelle province più lontane. Per secoli, Roma detta le linee dell'arte, della cultura e dell'architettura. All'epoca, Roma ha oltre un milione di abitanti, circa 20 volte la popolazione di una grande città europea del Rinascimento come Londra. Il potere di Roma è fondato anche sullo sfruttamento di milioni di schiavi e sull'oppressione di interi popoli. Nel corso dei secoli, la macchina da guerra di Roma è riuscita a tenere insieme l'impero, ma a un certo punto, i barbari prendono il sopravvento. Tra loro le tribù germaniche, come i goti e i vandali. Nel V secolo, l'impero romano d'Occidente cessa di esistere. Per Roma, Caput Mundi, la città eterna, che al culmine del potere aveva un milione di abitanti, inizia la decadenza. Arrivano i secoli bui. Il sapere del mondo antico va perduto. Un tesoro di conoscenze che abbracciava ogni campo, dall'ingegneria all'architettura, dalla matematica alla fisica. Persino le macerie dell'antica Roma vengono saccheggiate. Solo poche generazioni dopo la caduta di Roma, già nessuno saprebbe ricostruire le opere di ingegneria che avevano fatto grande l'impero. Nel 330 d.C., l'imperatore Costantino trasferisce la sua capitale sul Bosforo. Costantinopoli diventa il centro dell'impero d'Oriente. Ormai, il mondo romano è diviso in due e non tornerà mai più unito. L'impero romano d'Oriente sopravvive come ultimo bastione dell'eredità classica fino al XV secolo. Costantinopoli o Bisanzio è una metropoli con oltre mezzo milione di abitanti che tra loro si chiamano Romaioi, romani in greco. I suoi imperatori si considerano gli eredi di Cesare e Augusto. Costantinopoli è la seconda Roma e il suo patriarca è il capo della chiesa cristiana d'Oriente. E non è tutto. La città sul Bosforo tiene viva la fiamma della cultura classica. I suoi sapienti sono maestri in ogni ramo della conoscenza. La Roma d'Oriente è lo scrigno dell'antica sapienza anche nei secoli bui del Medioevo. La città sullo stretto resisterà per secoli a ogni invasore. Almeno un settimo della popolazione è costituito da mercanti provenienti dalle repubbliche marinare Genova, Pisa e Venezia. sono i cosiddetti latini una minoranza agiata e piuttosto invisa i greco-bizzantini che li considerano arroganti e attaccabrighe. All'inizio del 1171 scoppiano dei tumulti a Pera il quartiere genovese di Bisanzio. L'imperatore Emanuele Comneno I accusa i veneziani di aver provocato la sommossa. li fa quindi arrestare e imprigionare a migliaia confiscando tutto ciò che possiedono. Venezia reagisce a difesa della sua gente ma ormai è guerra. Il conflitto durerà per decenni e alla fine avrà conseguenze catastrofiche per tutto l'impero bizantino. La guerra culmina in una crociata che passerà alla storia come la quarta ma stavolta i nemici non sono gli infedeli che occupano i luoghi santi i cattolici d'occidente muovono infatti contro i cristiani d'oriente. Alla fine accade ciò che sembrava impossibile i crociati aprono una breccia nelle mura di Costantinopoli. Nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1204 le truppe imperiali cedono agli assedianti. Per tre giorni i crociati saccheggiano la città scatenandosi con stupri e massacri sulla popolazione. l'imperatore Alessio V riesce a fuggire ma viene tradito e accecato da un rivale ed è poi catturato e ucciso dai crociati. Il crollo dell'impero bizantino ha avuto paradossalmente un ruolo importante nello sviluppo del rinascimento. Già seriamente indebolito dopo la quarta crociata si dissolve definitivamente per mano dei turchi ottomani alla fine del Cinquecento. Tra la prima e la seconda caduta molti sapienti fuggono in Italia portando con sé gli antichi testi classici e cercando di instillare nuovi valori e nuove idee in una società ancora arretrata con un contributo di innovazione mai visto prima. Nelle biblioteche di Costantinopoli sono conservati immensi tesori di conoscenza tutto il sapere del mondo antico centinaia di artisti e sapienti lasciano la città dopo la conquista turca e scappano a Occidente portando con sé i preziosi testi. Emanuele Crisolora è uno di questi intellettuali. Il cancelliere di Firenze gli offre una cattedra presso l'università locale. Inoltre gli chiede di intercedere per portare in Italia molti testi antichi. è l'inizio di una nuova era segnata dal travaso della cultura d'Oriente in Occidente. In questo modo l'Europa riscopre anche le tecniche degli antichi scultori. La dinamicità il realismo e la vitalità sono immortalati nel marmo in forme impensabili durante il Medioevo e gli affreschi greco-romani ispirano i pittori. Anche gli antichi trattati di ingegneria iniziano a essere letti e studiati aprendo un'epoca di innovazioni tecniche e molti segreti della natura e dell'universo aspettano solo di essere riscoperti. Le scienze prime fra tutte la matematica e la fisica conoscono un'imprevista rinascita dopo secoli di oblio. Gli europei iniziano ad imparare da altre civiltà riscoprendo il sapere degli antichi greci e romani ma anche dei bizantini degli arabi e attraverso loro degli indiani. I cosiddetti numeri arabi infatti sono stati inventati in India. Ogni scoperta viene rielaborata e sviluppata. Non si limitano a copiare ma imparano i nuovi concetti e li diffondono grazie alla stampa. Questo dà il via a un dialogo scientifico senza precedenti nella storia della civiltà. Firenze 1410. La città ha all'epoca 50.000 abitanti come Londra ed è al culmine del suo potere economico e politico. Potremmo paragonarla a una sorta di Silicon Valley del Rinascimento. Il suo grande patrimonio è la conoscenza. Qui insegnano i sapienti d'Oriente ed è un punto d'incontro per artisti e studiosi. I progetti originali per la cattedrale di Santa Maria del Fiore risalgono alla fine del 200 e sono da subito molto ambiziosi. È destinata a diventare la più grande chiesa della cristianità. Un'opera prestigiosa che mira a superare le cattedrali di Pisa, Siena e Milano. E questo è il risultato. Con una lunghezza di 153 metri la cattedrale di Firenze è ancora tra le chiese più grandi d'Europa. Ma nel 400 era la prima del mondo. con un diametro di 45 metri la cupola fa segnare un altro primato. A iniziare l'affresco sui 4000 metri quadrati della volta è il pittore Giorgio Vasari che diventerà anche famoso come biografo di altri artisti. L'opera è concepita come una risposta all'ultima cena di Leonardo ma le figure del Vasari si perdono nella grande cupola e risultano quasi invisibili dal basso. Nel 1418 a più di un secolo dall'inizio dei lavori la cattedrale di Firenze è ancora incompleta manca infatti la cupola. Nel medioevo sarebbe stato impossibile risolvere i problemi tecnici e strutturali del progetto ma Filippo Brunelleschi cambia tutto. L'architetto e scultore fiorentino si ispira alle cupole del Panteon di Roma e di Santa Sofia a Costantinopoli e ha le idee molto chiare su come portare a compimento l'ambizioso progetto. Brunelleschi è anche un ingegnere e un inventore. Per il cantiere della cupola fa mettere a punto degli speciali argani adottando soluzioni che rivoluzioneranno le tecniche di costruzione. Oggi degli studenti di architettura del Politecnico di Darmstadt in Germania hanno ricreato al computer la Cattedrale di Firenze. Questo modello virtuale permette di analizzare il lavoro di Brunelleschi in ogni sua fase. La sua opera coincide con l'inizio del Rinascimento e assorgerà a simbolo del progresso ingegneristico dell'epoca. La cupola a doppia calotta e autoportante è una novità assoluta. Nel Rinascimento diventerà quello che la torre era stata per il Medioevo un'espressione del potere. Il progetto dell'Università tedesca è coordinato da Mark Grellet uno dei massimi esperti mondiali nella ricostruzione al computer dei più grandi edifici storici. Brunelleschi non è stato solo un brillante costruttore ma anche un ingegnere dalle qualità eccezionali. Inventa macchine da cantiere che non si erano mai viste prima come l'argano girevole a tre velocità che permetteva di far arrivare le pietre fino in cima alla cupola. Grazie a un complesso sistema di ingranaggi i materiali vengono sollevati e abbassati senza dover spostare ogni volta gli animali che lo azionavano. Le macchine di Brunelleschi sono una novità assoluta per l'epoca e suscitano ammirazione. La fune che sposta le pietre pesa circa mezza tonnellata è spessa a 7 centimetri e lunga 180 metri. anni dopo l'inventore si vedrà riconosciuto il diritto esclusivo a costruire un battello munito di argano è il primo brevetto industriale della storia. Tra i meriti di Brunelleschi c'è anche quello di aver ripensato l'organizzazione del lavoro in modo che gli operai impegnati nella costruzione della cupola possano consumare i pasti sulle impalcature senza dover scendere e poi risalire. i principi di funzionamento delle macchine di Brunelleschi sono molto simili a quelle in uso oggi e rivoluzionano completamente i cantieri del rinascimento. Le differenze tra il periodo gotico e il rinascimento non si limitano all'architettura. Gli architetti e i costruttori dei secoli immediatamente precedenti non hanno le conoscenze tecniche e strutturali necessarie a differenza di Brunelleschi procedono per tentativi creando costruzioni sempre più alte in delicato equilibrio ma senza calcolare i limiti strutturali dei loro edifici con formule matematiche. La storia dell'architettura gotica è infatti piena di esperimenti falliti. nel medioevo non esistono neanche progetti accurati il disegno dell'opera resta in gran parte nella mente dell'architetto qualcosa di inconcepibile nella prospettiva moderna. Si parte delineando semplicemente le dimensioni dell'opera poco più che un semplice schizzo. Nel periodo gotico si alternano fino a tre generazioni di architetti nella costruzione dello stesso edificio. Le idee e la loro realizzazione prendono forma nella mente dell'architetto che diventa un tutt'uno con l'opera. Con il rinascimento cambia tutto. Il progetto e la sua messa in opera seguono binari distinti. Filippo Brunelleschi contribuisce alla riscoperta della prospettiva una tecnica che era caduta nell'oblio ormai da secoli. Usando la geometria è possibile ricreare in modo realistico una visione tridimensionale. In questo modo il progettista può riportare su carta l'intero edificio fornendo una base virtuale per lo studio e l'approfondimento. Nasce così l'architettura moderna. Le tecniche della prospettiva influenzano anche i pittori. Le loro opere diventano proiezioni pienamente credibili della realtà. L'artista porta l'osservatore in un mondo nuovo facendolo sentire davvero parte della scena. I dipinti del rinascimento riescono a trasmettere un realismo mai raggiunto in epoche precedenti. La riscoperta della prospettiva diventa un motore potente del progresso. È il primo passo verso uno degli strumenti più efficaci nelle mani dei moderni architetti. È la progettazione del terzo millennio. Una visione digitale in 3D. Così l'animazione virtuale precede e prepara la posa della prima pietra. I software consentono di ricreare l'effetto finale con grande realismo e forniscono i dati per sistemi di produzione controllati dal computer. cantieri dove lavorano robot del tutto autonomi una visione da fantascienza eppure la tecnologia che lo renderà possibile nasce dalle intuizioni di Brunelleschi circa 600 anni fa. Brunelleschi non ha inventato il disegno prospettico ma ha rappresentato un punto di svolta per trasferire certe conoscenze del mondo antico nel rinascimento. sviluppa un metodo che permetteva a chiunque di costruire una prospettiva realistica di un oggetto per fasi graduali. Di conseguenza chiunque può progettare edifici o dipingere quadri realistici. Da un giorno all'altro gli architetti possono lavorare a 10-20 progetti mentre nel periodo gotico trascorrevano l'intera vita in un singolo grande cantiere. In Italia il rinascimento è l'epoca dei comuni e a Venezia Milano Firenze e Pisa gli architetti migliori possono chiedere qualsiasi cifra per i loro servigi. Non sono più anonimi come per tutto il medioevo ma fanno parte di un'elite privilegiata e molto vicina al potere. I nobili veneziani li pagano profumatamente per farsi costruire i loro palazzi. L'architetto svizzero Antonio Contino progetta e costruisce il ponte dei Sospiri ancora oggi uno dei luoghi più fotografati al mondo. Il nuovo stile architettonico diventa anche una merce da esportazione. Il municipio di Zurigo è un capolavoro del tardo rinascimento. Cento anni prima lo scultore e architetto Anton Eisenman firma uno degli esempi più pittoreschi dello stile rinascimentale italiano in Svizzera il municipio di Lucerna. ecco una struttura difensiva all'avanguardia per l'epoca basata sui disegni di Albrecht Dürer la fortezza di Muno nel nord della Svizzera ci affascina ancora per le sue proporzioni. Oltre alla simmetria un altro elemento preso a prestito dagli antichi è l'accorta disposizione di colonne archi e cupole. Architettura giardini e sculture si fondono in un esempio di arte totale. l'obiettivo è compiacere l'occhio e avvolgerci nella bellezza non glorificare Dio. L'arte medievale è essenzialmente arte sacra e questo è provato dal fatto che solo pochi nomi degli autori sono giunti fino a noi. Di regola l'artista affirma i suoi lavori ma quelli medievali sono spesso noti per accostamento alle opere o al luogo mentre il vero nome resta ignoto. Nel Rinascimento si rafforza la tendenza a riconoscere la paternità dell'opera. L'arte si libera dalla funzione devozionale ed è più orientata verso la vita quotidiana che viene rappresentata con accuratezza. Prendiamo ad esempio l'uso della prospettiva nella pittura. La quotidianità viene descritta in ogni dettaglio e questo favorisce l'emergere di artisti dotati di grande personalità e forza espressiva che sanno confrontarsi con i potenti dell'epoca avanzano richieste e sono corteggiati dal potere. Michelangelo è l'esempio dell'artista che può arrivare a imporre la sua personalissima linea anche al Papa. 1347 in Europa scoppia la peste nera. Solo in Inghilterra uccide quasi il 45% della popolazione nell'arco di soli sette mesi. Si contano centinaia di migliaia di morti e nessuna calamità ha mai avuto un impatto così profondo. In seguito il mondo non sarà più lo stesso. Il trauma viene elaborato anche dall'arte. La peste muta profondamente la società e in un certo senso l'umanità stessa inizia a cambiare. Può sembrare una valutazione cinica ma la peste non ha solo conseguenze negative almeno non se pensiamo al rinascimento a livello artistico e culturale. La ricchezza finisce per essere concentrata in poche mani e i sopravvissuti iniziano a vedere il mondo con occhi completamente diversi. è come uno stimolo ulteriore a godersi la vita senza negarsi alcun piacere. Per alcuni questo significa circondarsi di magnifiche opere d'arte. Altri invece vogliono conquistarsi il favore di Dio e usano le ricchezze per la salvezza delle loro anime. È il caso dei medici che finanziano la costruzione di un'intera chiesa a Firenze. È la prova della profonda influenza della peste sull'esistenza delle persone. Lo spirito dell'epoca si riassume nel motto di Lorenzo il Magnifico chi vuole essere lieto sia del domani non va certezza. Ecco una raffigurazione del mondo impensabile nel Medioevo corpi nudi in bella mostra figure di grande bellezza in scenari da sogno un erotismo esplicito. Il giudizio universale della Cappella Sistina Michelangelo raffigura anche le potenze celesti completamente nude una rivoluzione. A Firenze la peste colpisce con particolare violenza solo un quinto della popolazione sopravvive alla morte nera. La peste cambia anche la distribuzione della ricchezza nella città-stato e favorisce l'emergere di una nuova figura i magnati personaggi dalle immense risorse. È il caso dei medici mercanti e banchieri una famiglia che sarebbe stata guardata con disprezzo nell'Europa feudale ma che ora ha il mondo nelle sue mani. Torniamo indietro nella Firenze del 1425. Incontriamo lo scultore Donatello e il suo protettore Cosimo de' Medici il primo grande mecenate del Rinascimento. È un ricchissimo banchiere che ama tirare le fila del potere con discrezione alternando lusinghe e minacce. È uno degli uomini più facoltosi dell'epoca e il suo denaro alimenterà lo sviluppo delle arti e dell'architettura a Firenze facendo scoccare la scintilla del Rinascimento in tutta Italia. Eppure la sua ascesa non sarebbe forse stata possibile senza una piccola invenzione che rivoluziona la finanza. Un semplice metodo di scrittura contabile diventa un vero fattore di sviluppo. Per ogni esercizio si tiene una doppia contabilità quella dei creditori per le entrate e quella dei debitori per le uscite. Il primo sistema completo di partita doppia viene fatto risalire al 1340. è quello dei maestri razionali della Repubblica di Genova con gli introiti e le spese del governo. In questo modo il contabile conosce in ogni momento il capitale disponibile e può controllare l'andamento delle sue finanze nel corso del tempo. Conrad Umlar è un imprenditore svizzero con un passato da giornalista banchiere privato e mecenate e conosce bene la materia. Facciamo l'esempio che un uomo molto ricco venga da voi e vi dia un sacco di soldi. È veramente ricco? Se guardiamo la disponibilità di denaro liquido sicuramente sì ma se sappiamo che ha contratto dei debiti è probabile che il suo bilancio netto sia in perdita o che sia addirittura in bancarotta. La contabilità in partita doppia permette di scoprire tutte queste cose e conoscere veramente l'economia. Anche i flussi di denaro liquido possono essere valutati completamente solo attraverso questo metodo. Le scritture contabili ci permettono di valutare l'andamento economico nel corso del tempo. La partita doppia ha quindi consentito di guardare le dinamiche dell'economia da una prospettiva molto più ampia ed è un sistema che i banchieri del rinascimento hanno sviluppato a pieno. I medici sono banchieri concedono prestiti e rilasciano le lettere di credito che i viaggiatori possono cambiare in denaro nei vari paesi un'invenzione che anticipa i travels check sono attori di un'economia globale e Cosimo de' Medici muove enormi flussi di denaro in entrata e in uscita. Si calcola che nell'arco della sua vita abbia sborsato 600.000 fiorini pari a oltre un quarto di miliardo di euro in tasse beneficenza progetti e sostegno alle arti. a Firenze una piccola comunità di creativi artisti e architetti dipende unicamente dal suo denaro in cambio allietano la vita del mecenate Palazzo Medici diventa una delle più prestigiose vetrine dell'arte rinascimentale ed è singolare che Cosimo abbia pregato l'architetto di non renderlo troppo sfarzoso per non suscitare l'invidia delle altre famiglie fiorentine. I Medici vogliono avere il meglio in questa vita e anche nell'altra il loro denaro finanzia la costruzione della Basilica di San Lorenzo allo stesso modo Cosimo de' Medici sostiene la carriera degli artisti creando qualcosa che non si era mai visto prima il culto della celebrità Questo nuovo concetto di celebrità trova terreno fertile in Italia nelle eliti intellettuali ed è alimentato dalla concorrenza e dal mercato Gli umanisti i creativi e gli artisti di ogni sorta sono sostenuti e spesso ben retribuiti dai mecenati i quali a loro volta sperano di crescere in fama e statura grazie al prestigio dei loro protetti sempre di più la fantasia e l'originalità prendono il sopravvento sulle reali capacità di un pittore o di uno scultore in questo mercato così concorrenziale emergono poche figure che dominano la scena e la cui fama giunge fino a noi allo stesso modo il fenomeno dell'artista misconosciuto del genio sofferente è già ben presente all'epoca Donatello è uno dei primi artisti del rinascimento a diventare un autentico divo ha quasi 60 anni quando mostra a Cosimo de' Medici i disegni del suo David il giovane che sconfigge il gigante è destinato a diventare la sua opera più famosa ed è anche un azzardo perché il David è raffigurato nudo fino a poche generazioni prima le statue classiche venivano distrutte perché la nudità dava scandalo il David di Donatello diventa la prima scultura di un nudo a grandezza naturale dall'epoca greco-romana l'artista e il suo mecenate sono certamente consapevoli dell'impatto rivoluzionario dell'opera a differenza di altre culture il rinascimento ha superato di slancio l'ostilità verso la raffigurazione di corpi nudi o seminudi è un passo che favorisce anche lo sviluppo della medicina infatti non si può studiare l'anatomia senza raffigurare il corpo nella sua essenzialità ed è un passo decisivo nella comprensione della natura umana l'uomo non è solo una creatura animata dallo spirito o guidata dalle stelle infatti è una macchina che funziona secondo meccanismi precisi quello che oggi definiamo un organismo prima di donatello nessuno aveva osato rappresentare il corpo umano senza veli è quindi un atto insolito quanto la sua interpretazione il david di donatello non è un uomo virile ma un giovane in berbe con tratti quasi femminili e di un realismo suggestivo come il david questo studente di scienze motorie poggia il peso sulla gamba destra con grande naturalezza mentre l'altra appare più rilassata riproduce esattamente la posa del david una simulazione in laboratorio alla facoltà di scienze motorie di colonia analizza la sequenza dei movimenti l'artista e la sua opera sono messi alla prova mentre le videocamere seguono il movimento in ogni fase un programma trasformerà il filmato in dati per il computer Denise Tem è docente di danza e cultura del movimento e fa da consulente per l'esperimento vuole capire fino a che punto donatello avesse compreso la mobilità e l'anatomia del corpo umano è quasi impossibile mantenere una postura così rilassata se il peso del corpo poggia su entrambe le gambe questa posizione è definita contrapposto e vuol dire che il peso si sposta su un lato in modo da appoggiare sull'anca le scapole si sollevano e anche l'addome segue la gravità in questa posizione è una postura molto rilassata ma dato che le gambe non sono larghe si può muovere facilmente in ogni direzione se poggia su una gamba può spostare il peso rapidamente e ripartire i principi all'origine del contrapposto erano già noti agli scultori greci più di duemila anni fa dopo quasi un millennio di oblio vengono riscoperti dagli artisti del rinascimento primo fra tutti Donatello e consentono di ricreare con realismo le pose del corpo umano le cosiddette statue dei prigioni uniscono la rilassatezza del contrapposto con la tensione prodotta da ceppi e catene come Donatello Michelangelo conosce bene l'anatomia umana Donatello ha le sue idee sul movimento oppure attinge ad esperienze dirette per ottenere quell'effetto raffigura con estrema precisione molti dettagli che normalmente non prenderemo in considerazione per ricreare una posa come quella del David prendiamo ad esempio la forma del gluteo che appare completamente rilassato con le pieghe della pelle su cui grava il muscolo anche le giunture più flessibili in conseguenza della tensione del muscolo sono rilassate i nostri modelli sono studenti di educazione fisica eppure abbiamo dovuto faticare per ricreare la posizione dell'anca sul lato destro perché occorre una grande tensione muscolare quello del David è un corpo molto flessibile riprodotto nei minimi dettagli da dove arriva questa conoscenza minuziosa del corpo umano nel primo rinascimento si diffonde l'entusiasmo per tutto ciò che viene dal mondo classico e l'anatomia non fa eccezione quasi tutti gli artisti scultori e pittori dell'epoca studiano il corpo umano almeno a livello teorico fiorisce un commercio clandestino di cadaveri freschi e in molte città la profanazione delle tombe è punita con pene severissime tuttavia la curiosità prevale sulla paura è possibile che anche Donatello abbia dissezionato cadaveri così come hanno fatto Albrecht Dürer Michelangelo e Leonardo da Vinci una o due generazioni dopo di lui già negli anni del primo rinascimento la struttura del corpo umano è ormai ben nota a molti artisti questa conoscenza dell'anatomia consente di rappresentare l'uomo in forme più realistiche quindi Donatello era uno studioso dal grande talento artistico o un artista erudito lo studio condotto alla facoltà di scienze motorie di Colonia sembra confermare che Donatello avesse una conoscenza del corpo umano molto superiore a quanto ritenuto la sorprendente conclusione è che quasi 600 anni fa Donatello realizza in bronzo una statua la cui posizione rappresenta un ideale di efficienza dinamica confermato dalle moderne analisi non presenta affatto una posizione rigida dritta ed eretta ma ha una postura efficace e naturale il principio è stato catturato nella sua profonda essenza Donatello è riuscito a farlo risultare imponente quasi senza introdurre una vera tensione muscolare per una beffa del destino l'interpretazione donatelliana dell'eroe dell'antico testamento sarà messa in ombra da un'altra scultura del rinascimento che vedrà la luce sempre a Firenze è il David di Michelangelo con i suoi cinque metri di altezza è una statua monumentale e ha tratti quasi divini arrivato mezzo secolo dopo Donatello incarna una nuova epoca dominata dall'ottimismo è l'uomo rinascimentale la novità rivoluzionaria del rinascimento è rappresentata dal fatto che per la prima volta l'uomo è consapevole della sua forza e delle sue abilità espresse in forme nuove può infondere un'energia incredibile in ogni atto e pensiero che si tratti di commerci o tecnologie ovunque si respira un ottimismo travolgente nel medioevo più del 90% della popolazione è analfabeta i pochi che sanno leggere e scrivere appartengono quasi esclusivamente al clero sono loro che scrivono ricopiano i libri li possiedono e li conservano come tesori in una vita di lavoro un singolo copista o amanuense produce dai 10 ai 15 testi la rarità li rende immensamente preziosi all'epoca un volume può valere quanto un podere solo per la pergamena di un codice miniato ad esempio una bibbia serviva un intero greggio di pecore che valeva una piccola fortuna poi con la diffusione della carta e della stampa il costo dei libri si riduce e questo ne aumenta la diffusione sempre più persone possono partecipare al confronto sulle nuove idee e questo da solo è il fattore che trasforma l'Europa nel continente dell'innovazione facendone il motore del progresso mondiale le idee iniziano a circolare con una rapidità crescente un processo che da allora non si fermerà più i monaci amanuensi non si limitano a copiare le opere spesso le modificano o falsificano le fonti sostenendo che solo la loro versione è la parola di Dio e la parola è potere ma con il rinascimento il monopolio della conoscenza un pilastro dell'autorità della chiesa inizia a crollare si diffonde una nuova consapevolezza della verità e dell'autenticità delle fonti se non altro perché la cultura è più accessibile i letterati iniziano ad analizzare i testi con le tecniche dei maestri classici ormai la versione tradizionale e i miti propagandati dalla chiesa non reggono più alla prova dei fatti Magonza 1450 questa invenzione è forse la più importante degli ultimi mille anni eppure sappiamo pochissimo di quest'uomo Johannes Gutenberg il tipografo che ha cambiato il mondo la sua intuizione è di combinare i metodi di riproduzione e stampa in un unico sistema complessivo i caratteri mobili sono il fulcro della sua tecnica di stampa permette di imprimere le lettere più rapidamente e in modo più nitido e segna l'inizio dell'editoria moderna è l'atto di nascita della società della comunicazione e il principio su cui si fonda è valido ancora oggi la diffusione dell'informazione fa crescere la società cambia anche il valore attribuito alla cultura e all'informazione nel rinascimento la parola scritta acquista più rilevanza e la verità è quella che si legge nero su bianco la stampa a caratteri mobili è stata un'invenzione di enorme importanza e Gutenberg è forse la persona che ha influito maggiormente sulla storia mondiale negli ultimi mille anni i progressi tecnologici e le grandi rivoluzioni come la riforma luterana non sarebbero stati possibili senza l'invenzione della stampa nei primi 60 anni dall'invenzione della stampa a caratteri mobili vengono pubblicate 400 edizioni della Bibbia in lingue volgari allo stesso tempo il numero dei laici che sanno leggere e scrivere continua a crescere di conseguenza sempre più persone hanno un accesso diretto ai testi sacri la parola di Dio la gente del rinascimento si sente più vicina a Dio perché riscopre la propria natura divina una simile affermazione sarebbe suonata blasfema nel medioevo ma ora sempre più persone leggono la Bibbia dove si dice che l'uomo è stato creato a immagine di Dio e il creatore risulta molto più vicino per l'uomo del rinascimento di quanto lo sia mai stato nel medioevo eppure il grosso del lavoro delle prime tipografie non è costituito da libri ma dai primi panflet sono economici il costo di produzione equivale a due o tre ore della paga media la stampa di questi testi spesso su un solo foglio favorisce la diffusione di idee versi e disegni sono tre gli argomenti dominanti miracoli ed eventi straordinari precetti religiosi e propaganda politica e militare su questi panflet illustrati fanno la loro comparsa le prime caricature possono rafforzare un'opinione o diffondere un monito paragonabili ai moderni social network danno risposta a un bisogno che oggi è quasi un diritto fondamentale la diffusione capillare della propria opinione il rinascimento il rinascimento solo analizzando la diffusione e la crescita di questo strumento si può davvero capire l'esplosione di questa inedita libertà di pensiero che favorisce la diffusione delle idee durante il rinascimento la comunicazione di massa produce una nuova figura che calamita interesse la celebrità la sua invenzione è attribuita a Giorgio Vasari anche lui pittore e architetto ma soprattutto biografo di alcuni dei personaggi più affascinanti dell'epoca gli artisti è particolarmente attratto da Leonardo da Vinci ma ci lascia anche ritratti scritti di Raffaello e Michelangelo Leonardo è un personaggio fuori dagli schemi un mostro di creatività con un talento pari solo alla sua bizzarria e la cui vanità sconfina nella provocazione al punto da non celare la sua omosessualità Vasari è il primo a coniare il termine rinascita per definire quell'epoca e conferisce ai suoi protagonisti un alone di celebrità facendone le stelle di quel mondo ha creato una raffigurazione dell'artista che non esisteva fino a quel momento infatti in precedenza gli artisti erano poco più che artigiani si consideravano tali ed erano visti in questo modo Vasari ha invece creato lo stereotipo del genio un po' folle dell'artista travolto dalle sue passioni è un'immagine che ci risulta molto familiare perché è lui a inventare l'artista moderno Holbein il giovane è il primo a dipingere un ritratto della sua famiglia altre star della pittura come Botticelli e Dürer ci lasciano degli autoritratti che esprimono un'inedita consapevolezza di sé alla fine arrivano Raffaello e Tiziano i primi pittori che firmano le loro opere un altro passo verso la trasformazione dell'artista in personaggio presto i grandi nomi delle arti sono sulla bocca di tutti un fenomeno impensabile appena un secolo prima i colossi del rinascimento primi fra tutti Leonardo da Vinci e Michelangelo vengono celebrati invitati alle corti e pagati profumatamente nel 300 i maestri vetrai di Venezia creano lo specchio convesso un'invenzione la cui importanza è spesso sottovalutata rispetto agli specchi dell'antichità quelli veneziani restituiscono un'immagine nitida senza distorsioni quasi perfetta durante il medioevo la visione del proprio volto non andava oltre il riflesso tremolante nell'acqua con l'avvento di questi specchi l'uomo comune può finalmente guardarsi negli occhi ed è probabile che questo abbia favorito la crescita dell'autostima collettiva nel rinascimento rispetto alla società medievale l'orgoglio e la consapevolezza dei successi personali non sono più considerati un peccato e l'umiltà non è più in linea con i valori dell'epoca l'uomo del rinascimento cammina a testa alta anche in presenza di Dio e usa il suo intelletto come un dono speciale di origine divina sono questi i nuovi valori imperanti di conseguenza l'umiltà è sempre meno di moda l'uomo può cambiare il mondo e le sue qualità e i suoi trionfi sono una prova del disegno di Dio è questo il segreto dei giganti del rinascimento? avevano scoperto una formula magica della creatività? in ogni caso il loro carisma vive ancora in ognuno di noi e i suoi trionfi Grazie per la visione!